Che il Signore ci aiuti a vincere ogni forma di male col bene. Chiediamo al Signore questa grazia, 256 per la proiezione. Ecco, potete anche sedere un attimo, così chiediamo al Signore... Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Le donne. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore. Pace, gioia, forza nella Tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori. Sole della vita, ravviva la Tua fiamma. O Signore, Ti ringraziamo perché l'amore, la carità è il senso della vita. Grazie, O Signore, perché Tu sei l'amore che ci viene incontro, che dal cielo ci abbraccia. Grazie, O Signore, perché ci dà la possibilità di trasformare tutta la nostra esistenza in un atto di amore, in piccoli atti d'amore. Nella gioia, O Signore, nelle cose belle della vita, ma anche nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei problemi, O Signore. Noi abbiamo la possibilità, con il Tuo amore, di trasformarli in carità. Ti vogliamo ringraziare e pregare per le famiglie, per il dono della famiglia, O Signore. Perché è lì, nella famiglia, O Signore, che si riceve l'amore, che si impara l'amore, che si impara, O Signore, ad amarsi, che vuol dire sapersi donare, sapersi perdonare, sapersi rispettare. Grazie, O Signore. Noi vogliamo pregarti per le famiglie qui presenti, per quelli che questi giorni ci dà la possibilità di incontrare, e anche per le famiglie dei nostri amici, dei nostri parenti, per tutte le famiglie, O Signore, del mondo. Grazie, O Signore, Gesù. Fa che la famiglia sia aperta, O Signore, al Tuo amore, alla Tua presenza. Grazie, O Signore. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la Tua fiamma. Quello che dirò adesso vuole, ho l'intenzione di chiarire alcune cose riguardo anche alla realtà della famiglia, perché si può affrontare questo problema solo dal punto di vista umano. La famiglia come il luogo dove io cerco la mia soddisfazione, che faccio delle scelte e poi cerco di essere soddisfatto delle scelte che faccio. Onestamente la Bibbia va oltre questo. La famiglia per noi è una chiamata, una vocazione, che non ha il primo scopo, quello di soddisfare la persona, ma di quello di abituare la persona alla carità. Quindi su due punti di vista molto diversi, no? E se voi vedete nella società, al di là del messaggio cristiano, ogni persona cerca la propria realizzazione come propria soddisfazione. Mi sento bene. È come un po' quando una persona va in palestra e dice, mi sento meglio. Ecco. Però onestamente nella Bibbia non è affrontato questo problema, soprattutto negli Vangeli, come il primo scopo, ma è quello di realizzare un piano di Dio all'interno di una realtà che è la famiglia, dove ci sono dei ruoli che favoriscono la crescita delle persone. Quindi il primo scopo è un po' come quando Gesù diceva, non si può realizzare una persona se ricerca la propria vita, ma se perde la propria vita. Sembra un fatto strano, no? Che uno per realizzarsi non debba tirare l'acqua al suo mulino, perché questo sarebbe egoismo. Eppure la società fa così. In effetti la prima cosa che si cerca nella società a livello umano è che io mi sto bene. Ecco, se una cosa non mi fa stare bene, che la faccia fare? E invece il Signore ci dice che al primo posto ci sono le esigenze dell'amore e queste prevedono anche il mio sacrificio. Le esigenze della carità prevedono che io faccia sacrifici per gli altri, in modo gratuito, cioè non è che ho un tornaconto. Anzi, devo imparare a trovare la mia soddisfazione nel rendere felici gli altri. Quindi è la logica che è diversa. Per esempio, quando noi ci chiedono, ma è una cosa buona convivere prima del matrimonio? Per noi non è una cosa buona, perché non è nella logica del Vangelo, anche se è comoda, perché non è comoda, giustamente, stiamo insieme fino a quando lo riteniamo giusto, senza impegni giuridici, senza niente, senza impegni, poi ognuno se ne va per i fatti suoi. Però in questa maniera, anche se è una strada larga, però è una strada dove l'io è al primo posto. Io mi sento soddisfatto, se poi non mi sento soddisfatto, fino a quando va bene, perché poi, se mentre si convive, per esempio, una persona si innamora di un altro, dicevo, non ho legami, posso fare quello che voglio, però sapete poi che se ci sono dei figli diventa complicato per i figli, si cascano sulle spalle dei ragazzi, per esempio, tanti pesi, tante cose, e che i ragazzi sono innocenti, i giusti figli poi ne fanno sempre le conseguenze. La logica del Vangelo, in effetti, non è una logica che metta al primo posto la mia realizzazione umana. No, la realizzazione umana c'è, ma come frutto della carità, che è diverso, sapete, è una cosa che dice io mi sento realizzato alla fine della mia vita perché ho sacrificato la mia vita per il bene degli altri. A primo posto per noi c'è la carità e la carità, sapete, non so se voi vi ricordate, la carità, San Paolo la descrive in un modo anche molto concreto. La carità non cerca il suo interesse, la carità non si gonfia, la carità è sempre disponibile al bene degli altri, la carità, per esempio, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta, la carità dimentica i torti. Sapete, se ci orientiamo verso la carità noi dobbiamo modificare molto la nostra vita perché noi non siamo nella carità. Noi la carità la impariamo, noi la sogniamo la carità, ma non la viviamo bene. Poi ognuno di noi ha la tendenza naturale a cercare il proprio interesse, la mia soddisfazione. Mi sento realizzato, non mi sento realizzato. Giustamente Gesù sulla croce, non è che si sentisse realizzato tanto, va. È giusto, sulla croce, nell'orto degli ulivi, Gesù non disse Padre, non mi sento realizzato, Padre, allontana da me questo calice, ma se non si può allontanare, sia fatta la tua volontà. Gesù si è piegato alle esigenze dell'amore assoluto per il bene di tutta l'umanità. Il male è stato vinto perché l'amore ha trionfato sull'egoismo, sulla paura. Gesù ha incarnato l'amore perfetto. Ora, il fatto che noi mettiamo il crocifisso anche come una decorazione ha un significato. Sapete, il crocifisso di per sé la croce non è una cosa buona. La croce, prima di Gesù Cristo, era un segno di maledizione. Era la morte dei peggiori delinquenti. Gesù ne ha fatto, invece, lo strumento della vittoria. Per questo San Paolo dice la croce da scandalo, cioè da cosa che ci turba, deve diventare sapienza. Perché l'amore ha il potere di far diventare sapiente la croce. Che significa? Che certe volte molti di noi, quelli che siamo più grandi, lo sappiamo, certe volte se noi non ci sacrificiamo, se non sottomettiamo la nostra vita alle esigenze della carità, noi, in effetti, non favoriamo il bene. Perché altrimenti ognuno tira l'acqua al suo mulino, ognuno fa quello che vuole, ognuno di noi, in fondo, dice io ho i miei diritti. Ecco, devo gestire la mia vita, le mie esigenze. Ma Gesù non mise al primo posto le sue esigenze. Gesù che cosa mise al primo posto? In ubbidienza al Padre. La salvezza degli uomini. Non sono venuto per essere servito. Sono venuto per servire, per dare la vita. Non c'è amore più grande che dare la vita per gli altri. Quindi, sapete, noi la pratica religiosa, la pratica cristiana, la possiamo vivere come pratica cristiana, ma vivere il Vangelo è più esigente. Perché, vedete, dire un rosario è già una cosa buona, meditare. Partecipare alla liturgia è già una cosa buona. Ma nella vita, come dice il Papa Francesco, vivere concretamente l'amore di Gesù ci impegna assai. Ecco, questo lo dobbiamo dire. Perché noi cristiani ci troviamo nella società a dover dire e affermare, vivere cose che nella società non sono molto di moda. Voi, più di noi, ancora nel sud dell'Europa, magari da noi nel sud d'Italia, alcuni valori del familiare ancora un pochino, un pochino si coltivano. Ma più andiamo verso il nord, più andiamo verso la società occidentale, quella più evoluta, diciamo così, cioè di fatto, per esempio, molte, io penso che molti dei vostri figli, dei vostri nipoti, in fondo, non è che hanno un modo di ragionare più cristiano. eppure, 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 sapete, senza Gesù la società non porta il frutto della carità, non porta il frutto della carità. Gesù è venuto proprio perché il mondo impari ad amare. Addirittura, Gesù fa in modo che l'umanità sia come una famiglia. Certo, da questo punto di vista invece siamo all'opposto però nella società. Che addirittura non c'è proprio il senso di famiglia né nelle famiglie né nell'umanità. Perché, pensate, Gesù ci ha insegnato il Padre Nostro perché da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi latitudine, uno si senta fratello degli altri, figli dello stesso padre. Però, nella società moderna, quella che consideriamo la società moderna, in effetti ognuno fa i fatti suoi e c'è le straneità. Anzi, se c'è un po' di amicizia ci sembra assai noto, se ci salutiamo gentilmente già nella società di oggi dice guarda, già è una cosa buona. Invece il Signore ci propone la vita come fraternità. Voi tutti siete fratelli, dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri, chi vuole essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti, avete un solo padre, una sola fede, è un solo Vangelo, una sola verità. Ecco, noi dobbiamo dire che il ruolo dei cristiani nella società è un ruolo per certi aspetti controcorrente, in senso positivo. C'è gente che va contro la società come i terroristi che la vogliono distruggere, ma c'è gente che invece propone alla società qualcosa di buono. E un po' possiamo dire che il ruolo dei cristiani è l'opposto dei terroristi. Il terrorista dice, qualsiasi tipo di terrorista, non solo quello dell'IS, dell'islamico, ma anche i terroristi che c'erano una volta negli anni 70 in Italia, non so, tutte le brigate rosse, tutti quelli che volevano distruggere, perché quando le cose vanno male c'è sempre qualcuno che vuole distruggere gli altri, perché deve distruggere, perché io non sono d'accordo, la società è così. Noi cristiani siamo all'opposto, noi non siamo d'accordo sulla società, però la vogliamo aiutare, vogliamo dare alla società quello che manca alla società. Quindi è molto importante sapere il nostro ruolo. Vi ricordo che Gesù disse che il nostro ruolo è quello del lievito. Il lievito, come voi sapete, rispetto alla farina è una piccola parte. In effetti noi per vivere il cristianesimo non abbiamo bisogno di grandi folle. Voi quando vedete per esempio la piazza San Pietro piena, in effetti la piazza San Pietro piena non esprime il cristianesimo di ogni giorno, perché in effetti per il ruolo che è il Papa, per il carisma anche personale che è il Papa, che si raccolgono 60.000 persone là, non è una cosa diciamo strana. Ecco, però non è neanche indicativo del cristianesimo perché il cristianesimo voi vi accorgete non si vive in piazza San Pietro. Il cristianesimo si vive per strada, il cristianesimo si vive sul posto di lavoro, si vive in famiglia. Quindi non è che uno ha l'immagine di piazza San Pietro piena e dice ah il mondo è così. Piazza San Pietro non è il mondo. Piazza San Pietro è una porzione del mondo. Ecco, è quel lievito che poi si sparge in tutto il mondo. Però il fatto che noi per esempio come cristiani noi diciamo abbiamo adesso un ruolo diverso che nei secoli passati. Voi dovete pensare che la terra dove ci troviamo noi nei secoli nel quattordicesimo secolo quindicesimo secolo diciamo prima di Lutero possiamo dire ma anche in qualche maniera anche dopo Lutero ma soprattutto prima questa è una terra mistica. C'erano i mistici della Valle del Reno che sono stati nella storia del cristianesimo delle persone di grandissima esperienza. Questa era terra anche le chiese che ci sono qua testimoniano del cristianesimo che c'era nei secoli passati. Cioè al vedere le chiese che ci sono qua anche in Baviera nelle altre parti cioè si capisce che qua il cristianesimo non era una cosa da niente era una cosa importantissima perché altrimenti queste chiese non ci sarebbero state la storia della chiesa proprio nel nord Europa è stata importantissima in Francia nel nord in Germania in tutta questa parte adesso per esempio le cose si sono cambiate adesso il ruolo cristiano invece è quello non di essere espressione di una cultura di massa ormai le persone non lo vivono più il cristianesimo così adesso il cristianesimo è una scelta non è strano perché il cristianesimo è nato come una scelta controcorrente voi pensate che quando San Pietro andò a Roma e fondò proprio la prima più grande comunità quella proprio dei cristiani di Roma dicono gli studiosi non dovevano essere più di una trentina 40 persone tutta perché perché si comincia così cioè la società è scivolata verso il paganesimo ma il ruolo del cristiano è diventato diverso da prima e quindi adesso per esempio chi vuole essere cristiano veramente sa che ha un ruolo positivo nel quartiere nella famiglia cioè non vi dovete stupire di questo perché per esempio quando non so Sant'Agata o Santa Lucia perché è siciliano per esempio Santa Lucia di Siracusa no vi ricordate la Santa Lucia ha testimoniato di essere cristiana in un mondo pagano cioè i cristiani davano e devono dare esempio di quello che nella società non si vive nella società per esempio non si vive per le cose del cielo il cristiano non vive per le cose della terra ma per le cose del cielo cioè ricorda agli altri che le cose di questo mondo passano mentre tutte le persone vivono per il denaro per il successo il cristiano è uno che dice guarda il denaro il successo possono essere utili ma non sono il tesoro il vero tesoro è il regno di Dio perché tutto passa il regno di Dio non passa è dello scopo della nostra vita quando gli altri sono delusi il cristiano è una persona invece che dà speranza quando gli altri per esempio si vedono che la vita in fondo si gestisce male perché uno è chiuso nel proprio egoismo il cristiano invece è una persona generosa che dà la vita si sacrifica per gli altri in un mondo dove c'è per esempio la logica della guerra cioè di lottarci l'uno con l'altro il cristiano è una persona per esempio vi ricordate beati gli operatori di pace perché saranno chiamati i figli di Dio tutto questo matura nelle famiglie perché sapete far crescere i ragazzi in un clima per esempio in cui si mette al primo posto la carità significa per i ragazzi crescere in una situazione diversa dalla società allora mettetevi nei panni di un bambino che è abituato nella sua famiglia a mettere a primo posto non se stesso ma le esigenze di Dio dell'umanità e del mondo arriva nella società e vede il contrario allora comincia a dire scusa come mai io vivo in casa certe cose che nella società non si vivono alla televisione per esempio non si vedono si comincia a interrogare i genitori cominciano a dire guarda che noi siamo cristiani la società non è cristiana ma noi siamo cristiani io mi ricordo quando sono andato a Gerusalemme e una una bambina quando a Cana siamo andati a Cana di Galilea dove c'è stato il primo segno miracoloso delle nozze di Cana mi ricordo che una bambina in italiano fuori mi disse io sono cristiana e qua nel quartiere nessuno è cristiano solo la mia famiglia è cristiana mi disse evidentemente lei aveva preso coscienza proprio del suo ruolo di essere cristiana perché? perché i cristiani in effetti anche se sono perseguitati anche se sono non capiti però in effetti hanno un mandato da parte di Dio sapete una cosa è arrivare siccome tutti ci dobbiamo arrivare dall'altra parte della vita arriverà per tutti i giorni in cui lasceremo questo mondo una cosa è essere fedeli al Signore dire Signore davanti a te io ho fatto quello che ho potuto per la verità e per la carità mi sono trovato in un mondo in cui invece la cosa più importante è il proprio comodo le proprie esigenze soddisfare le proprie cose e invece la chiamata che il Signore ci dà è quella proprio di essere coloro che sono una luce nel mondo voi mi direte ma molte volte noi non riusciamo a essere testimoni del Vangelo del Signore quello è il problema io penso che Papa Francesco ci chieda a tutti di avere questo ruolo nella società vi siete accorti che il Papa spesso parla di una chiesa in uscita perché si parla di una chiesa in uscita perché noi siamo abituati in Europa a una chiesa in entrata cioè si suonano le campane e uno va in chiesa ora andare in chiesa è soltanto il 50% del cristianesimo perché poi dall'altare quando uno va in chiesa deve portare nel mondo quello che ci dice Gesù cioè ci vuole l'andata e il ritorno non si può fare solo l'andata non sono cristiano solo perché vado vi siete accorti che alla fine della messa si dice andate voi sapete che quello andate non significa la messa finalmente è finita e andate a casa non significa questo quello è il mandato missionario andate e portate a tutti questo vuol dire ecco andate e portate quello che Gesù vi ha dato cioè la preghiera la parola e l'eucarestia portatela nel mondo quindi è come per dire alla fine della messa il Signore dopo averci dato se stesso adesso ci dà il compito di portarlo nel mondo a noi vi accorgete che la maggior parte delle persone siamo stati educati invece ad andare a messa almeno a noi al sud molti di noi siamo del sud non ci hanno insegnato che il cristianesimo è andare a messa e portare Gesù nel mondo ma ci hanno insegnato ad andare a messa già i nostri genitori erano soddisfatti se noi andavamo a messa ecco io penso che la maggior parte di voi come sono stato educato io se i miei figli andassero a messa se si facessero la comunione già forse soddisfatto e invece onestamente il Papa ci sta ricordando che il cristianesimo non è solo andare a messa questa è solo la prima parte ecco poi bisogna dalla messa andare nel mondo è come se io vi dicessi la scuola andare a scuola non è tutto se uno va sulla scuola e poi non va a lavorare tu vai a scuola per imparare poi finisce il tempo dell'imparare e deve andare a lavorare a cambiare il mondo a lavorare nel mondo ecco noi questa parte in effetti non l'abbiamo molto vissuta stiamo pagando il prezzo di questa mancanza di possiamo dire di espansione del cristianesimo noi per tanti secoli siamo andati in chiesa singolarmente o come famiglia o come gruppo per imparare e poi ci siamo fermati lì ognuno ha pensato che il suo compito era quello di santificare la propria persona però Gesù non disse questo Gesù disse siate luce del mondo sale della terra San Paolo in Romani 10 dice se tu nel tuo cuore crederai che Gesù è risorta e con le labbra annuncerai che Gesù è il Signore allora la salvezza si realizza voi direte ma perché ci ha dato questo compito per quale motivo Gesù ci ha dato il compito di portare il Vangelo perché portandolo agli altri cresce in noi qualche cosa di nuovo sempre sapete chi porta agli altri quello che ha cresce in quello che ha vi faccio un esempio se una persona un infermiere esercita sugli ammalati la sua arte infermieristica diventa più competente se una persona per esempio ha studiato per infermiere e non e non aiuta nessun malato nel giro di due anni tre anni state tranquilli non non lo so fare più se un idraulico per esempio che conosce proprio tutta la tecnica idraulica non va dalle persone a esercitarsi non cresce dopo alcuni anni non lo so fare più se un cuoco non cucina per gli altri finisce noi per poter crescere nell'amore di Dio per poter crescere nell'amore di Dio noi abbiamo bisogno di offrire Dio agli altri sapete nel campo della carità succede il contrario scusate ora vi metterete a ridere che è nei soldi nei soldi più do agli altri e meno ne ho io è giusto perché scusate se io ho un conto in banca e comincio a dare soldi agli altri finisce il conto in banca ma nel campo della carità è il contrario più io do agli altri e più mi cresce il conto della carità la carità in fondo no anzi in fondo in realtà la carità cresce donandola ecco madre Teresa perché diventò una compionessa ricca di carità perché offri molta carità agli altri man mano che tu offri agli altri amore il meglio che hai tu ti senti più ricco cioè quando noi io penso questo l'avete fatto l'esperienza l'abbiamo fatta tutti se voi andate con vero amore senza interesse personale ad aiutare una persona bisognosa voi tornate a casa a diversi più ricchi più maturi più sensibili più più seri ecco più complete mi sento meglio perché sono andato da una persona senza perché una cosa è andarci perché mi paga allora uno fa il suo dovere giusto mi paga una persona mi paga io vado l'aiuto mi paga e quindi io mi sento soddisfatto di aver fatto bene il lavoro ma se io vado da una persona e non mi da niente ma io il desiderio che quella persona stia meglio e la vedo stare meglio in effetti quello che do gratuitamente io dentro lo ritrovo come qualcosa che mi fa stare meglio tanto è vero che l'egoista quello che pensa solo a se stesso poi sta male perché l'egoista non fa niente senza un tornaconto fateci caso c'è gente che se non ha un tornaconto non fa niente pure in famiglia pure tra gli amici queste persone che fanno sempre le cose per tornaconto non per carità alla fine si inaridiscono si sentono sempre sulle si lamentano non si sentono amati perché non amano e invece una persona che va gratuitamente e quello ti dice ma che ti posso dare non mi devi dare niente perché io ho il piacere di servirti di darti una cosa io ho il piacere di venerti incontro mi fa piacere venerti incontro ecco Gesù ha detto gratuitamente avete ricevuto gratuitamente date non vi preoccupate noi in effetti non abbiamo dato Gesù agli altri non l'abbiamo dato Gesù agli altri spesso nelle famiglie si pensava che quelli che dovevano dare Gesù erano i preti e i catechisti pensate loro devono fare questo ma Gesù non ha detto ai preti e ai catechisti evangelizzati ha detto a tutti i battezzati ricevete il battesimo andate in tutto il mondo portate il Vangelo io lo capisco che è scomodo perché sapete è scomodo per esempio parlare di Gesù testimoniare Gesù sentire il bisogno di fare gli interessi di Gesù per esempio questa è una cosa che in effetti è difficile dirlo anche nelle prediche che per esempio fare gli interessi di Gesù del regno di Dio corrisponde a fare veramente i nostri interessi perché siccome il regno di Dio è ricco di carità è il regno dell'amore in un mondo dove non c'è amore fare gli interessi del regno di Dio vi ricordate Gesù che cosa disse in Matteo 6 dice questo non pensate non vi affannate a dire cosa mangeremo come ci vestiremo mettete il regno di Dio al primo posto queste cose lui ve le dà in più in effetti è una logica molto divina questa signore io penso ai tuoi interessi il regno di Dio sarebbe il bene di tutti e tu pensi ai miei bisogni un giorno lo disse a Santa Caterina da Siena Santa Caterina che si trovò in un momento molto brutto della storia lei era molto turbata e affaticata per tanti problemi a parte il fatto che lei era la ventiquattresima figlia di una famiglia di venticinque figli bello eh belle famiglie sì la famiglia ben in casa aveva venticinque figli lei fin da bambina aveva una particolare attrazione per Gesù a un certo punto Gesù più di una volta le disse sei troppo presa dai problemi e lei disse Caterina facciamo un patto tu pensa a me a quello che serve a me per salvare il mondo che poi alle tue cose ci penso io in effetti vedete che succede sempre Gesù infatti dice che chi si dedica a lui anche in famiglia non pensate solo frati o sacerdoti o consacrati chi mette il regno di Dio al primo posto dice Gesù riceve cento volte tanto in questo mondo e poi la vita eterna ma noi questa parte del cristianesimo onestamente siamo arrivati a essere quasi vecchi ma non l'abbiamo vissuto fateci caso tanto è vero che quando una persona quando noi facciamo le missioni tante volte la gente ci chiede ma siete testimoni di Geova perché è così inusuale che un cattolico vada a portare il Vangelo a parlare di Gesù o avere una Bibbia in mano che gli viene il dubbio alle persone ma forse non siete cattolici e tu devi convincere noi siamo cattolici per dirvi quanto è difficile per noi entrare nell'ottica che io sono cristiano non solo quando prendo da Gesù ma quando servo Gesù e servo l'umanità perché poi servo all'umanità guardate che fare gli interessi di Gesù non è perché Gesù ha bisogno perché gli interessi di Gesù sono il bene delle persone portare le persone al bene il Signore non può vedere persone infelici siccome ci sono molte persone infelici e schiave e pensano che sono schiave sapete quanta gente per esempio dice non mi sento realizzato e io gli chiedo ma perché pensi perché guadagno poco perché ognuno sapete che non si sente bene cerca la soluzione allora oppure qualche altro mi dice perché ho sbagliato moglie non mi sento realizzato e sono tutta illusione perché non è vero non è vero oppure mi dice perché non mi nascene i figli come dicevo io ma tutte le scuse che noi troviamo vedete perché non mi sento realizzato è perché o anche le cose strane che succedono penso che anche in Germania io non so adesso in Germania ma in Italia dilaga molto l'immoralità sessuale molto molto c'è molta immoralità sessuale perché molte persone dopo per secoli c'è stata molta repressione sessuale vi ricordate nelle nostre famiglie non si parlava mai di queste cose sessuali perché era considerata una cosa sporca ecco poi a un certo punto la cosa cambiò e si passa al polo opposto non si parla di altro che di cose sessuali omosessuali tutte queste cose così però vedete questo uso della sessualità sfrenato oppure libero non dà vera realizzazione perché Gesù non ha creato la sessualità come strumento di egoismo il Signore ha creato la sessualità come linguaggio di amore se non si usa come amore vero se uno non sa amare con la sessualità si distrugge e infatti la società è mezza distrutta anche da questo punto di vista ora noi il Vangelo è necessario anche da questo punto di vista in ogni caso nella famiglia si può fare un ruolo per il Vangelo che non si può fare neanche in chiesa sapete certe cose o si vivono in famiglia o non si riesce in chiesa a fare quel lavoro che si può fare in famiglia perché in famiglia si vive tutti i giorni in chiesa non è che si può andare tutti i giorni anche se tu potessi andare in chiesa a tutti i giorni a messa ma puoi stare su quarta dura a messa ma il lavoro che si deve fare serio è in famiglia come si amano marito e moglie come si amano genitori e figli come si insegna la carità come si vive per esempio per Gesù in famiglia e quello è fondamentale in effetti il sinodo straordinario che c'è per ora deve discutere su cose molto importanti non è soltanto il problema dire ma gli facciamo fare la comunione ai divorziati e risposati questo possiamo dire è un problema pastorale anche un po' grave però la sostanza non è questo la sostanza è che nella famiglia spesso il Vangelo non si vive l'amore di Gesù non si vive e siccome la società anche la chiesa è fatta di persone che vivono in famiglia e allora tutto sta andando un po' male è molto importante sapete che il 98% 99% e oltre dei cristiani sono sposati e quindi devono vivere in famiglia il cristianesimo che devono andare in chiesa per imparare a vivere il cristianesimo sì per lodare Dio però poi si deve vivere il terreno è nella famiglia per questo noi vi diciamo non lo so io non è che mi illudo ora che parlando di queste cose noi domani mattino già cambiamo vita ma sapete anche il solo pregarci e dire signore donaci la grazia di vivere il cristianesimo in maniera completa come lo vuoi tu perché onestamente noi abbiamo vissuto il cristianesimo in questi ultimi secoli come abbiamo un po' l'abitudine di viverlo un po' così un po' ridotto ecco un cristianesimo un po' così adattato alla nostra mentalità e invece il vero cristianesimo oggi come oggi c'è esigenza di viverlo perché la società ha bisogno del cristianesimo la famiglia ha bisogno del cristianesimo ma chi glielo farà vivere se non lo viviamo noi quindi abbiamo bisogno sapete di prendere coscienza un ruolo abbiamo un ruolo molto importante noi e dobbiamo pregare anche quando stiamo insieme come in occasione di questo genere in effetti il fatto di vivere il cristianesimo solo andando a messa è un po' insufficiente alcuni di voi giustamente mi dicevano che hanno trovato nei pellegrinaggi un'esperienza che non si può fare solo in parrocchia è giusto o in famiglia è vero però oltre ai pellegrinaggi ci sono dei dei ritiri ci sono dei momenti di adorazione ci sono degli incontri di preghiera di formazione noi abbiamo voi pensate per esempio in qualsiasi azienda ci sono sempre dei corsi di aggiornamento ci sono sempre riunioni per vivere bene la ditta la cosa ci sono sempre aggiornamenti di macchine nel cristianesimo invece noi facciamo come all'antica non c'è mai aggiornamento non ci sono aggiornamenti non ci sono invece la società si è sviluppata in un certo modo ora bisogna che noi aggiorniamo il nostro modo di vivere cristianesimo alle esigenze di oggi ecco io non lo so queste cose è giusto che io ve le dica perché perché almeno una persona dice io l'ho sentito questo io so che è così ancora non sappiamo come fare ma stiamo con le orecchie tese per vedere il Papa gli altri come ci dicono di affrontare ci aspettiamo molte indicazioni dai pastori per vedere come vivere in maniera adeguata a oggi il cristianesimo il Vangelo oggi perché se perdiamo questa occasione arriveremo alla fine della nostra vita e in fondo non abbiamo dato una risposta cristiana al bisogno dell'uomo di oggi ma Gesù vuole rispondere oggi alle persone perché Gesù è la risposta al vero bisogno dell'uomo non vi illudete non basta la politica la politica è necessaria ma non basta non basta l'economia anche se è necessario lavorare giustamente ma non è sufficiente ci vuole la carità perché chissà quante persone qua io non conosco persone tedesche qua ma penso che voi che vivete in questa società tedesca vi accorgerete che anche qua le persone anche più ricche pure loro hanno bisogno di Gesù perché anche se hanno soldi hanno lavoro hanno quello che è però hanno bisogno di Gesù in un modo diverso da come ce l'abbiamo bisogno in altre parti del mondo però abbiamo bisogno di questo non so se ci sono delle domande che voi adesso capisco che parlare in pubblico non siete abituati quindi cioè non è che mi illudo alzate la mano e dite io penso così perché non siamo abituati a pensare a voce alta davanti perché ognuno pensa potesse di confessarie gli altri che cosa pensano che io dico cretinaggine che uno sbaglia a parlare però diciamo però è importante sapete anche tra di noi dire come faccio come facciamo certo i mezzi ci sono oggi non c'erano una volta voi pensate per esempio adesso vi potete collegare per esempio facilmente con tv 2000 in lingua italiana che è una televisione di un certo livello però cristiana ecco penso che molti di voi tv 2000 telepatrepio vabbè telepatrepio è un po' più devozionale si parla soprattutto di cose che riguardano la preghiera l'adorazione telepace sono queste qua però quella è un po' più dove c'è il telegiornale dove ci sono il commento le notizie tv 2000 ecco in effetti già sono canali in cui una persona a casa può capire alcune cose così per esempio questo non c'era una volta ecco una volta non c'erano questi mezzi televisivi adesso per esempio ci si può muovere anche per andare in un ritiro in una non so a fare un cammino un giorno anche qua se ne organizzeranno ritiri cose sicuramente no no non c'è qua la vabbè il pellegrinaggio più che altro se vi informate se vi informate quasi sicuramente ci saranno anche qua nella diocesi sì anche in Don Mimmo sicuramente sì io vi direi non ci rassegniamo non ci dobbiamo rassegnare a un cristianesimo sapete un po' un po' possiamo dire statico un po' come siamo abituati un po' stanco sì un cristianesimo questo tipo di cristianesimo in effetti non può essere proposto alle persone perché già le persone sono stanchi più fatte so ci presentiamo un cristianesimo stanco diciamo guarda già ho i miei guai ecco invece abbiamo bisogno di portare un cristianesimo che in qualche maniera ci fa sperimentare la gioia di vivere perché il bene c'è nel mondo cioè se una persona sa distinguere il bene dal male può gioire del bene che c'è perché il bene c'è solo che tante volte noi ci lasciamo troppo condizionare dal male allora una persona diventa pessimista diventa un po' negativa e non sa valorizzare il bene però il bene c'è Gesù anzi la realtà dell'Eucaristia è proprio il bene personale di Gesù che è fonte di pace è fonte di pace vi ricordate che Gesù ha detto io vi lascio la pace la pace del cuore vi do la mia pace bisogna coltivare il rapporto con Gesù e sapere anche essere in forma perché il mondo il mondo ha bisogno di aiuto di luce le persone che incontrate sicuramente hanno bisogno e portare è un onore per noi portare Gesù agli altri sapete a parte che ci fa stare bene vi dicevo è anche una cosa utile per le persone quindi ciao tutto tace va bene va bene per le persone che ci fa per le persone che ci fa essere all'estero non è un piano con la comunità evangelista con la comunità musulmana con l'islam ma c'è di utile ora il problema con i media è questo con queste scantole della chiesa poi i ragazzi si sentono bombardati sì sì ora evidentemente dici tu mi vieni a dire di a subito mi vedi la gaffa e non mi senti scusate se sono un pochettino napoletano arrivato in giusto napoletano arrivato in giusto se sono leggermente napoletano no no arrivato in giusto grazie a Dio grazie a Dio ancora non sono saputo un po' a camminare e mi ha illuminato allora io penso a tutte le altre famiglie sì i miei conoscenze allora io non so se è chiaro quello che sta dicendo anche gli scandali che ci sono stati che ci sono nella chiesa non non aiutano a vivere bene ma dovete tenere presente che a questo proposito anche Gesù ha avuto a che fare con Giuda ha avuto a che fare con il rinnegamento di Pietro per cui la presenza dello scandalo in effetti fa parte del mondo del male e anche il fatto per esempio di dire che nella chiesa anche se la chiesa è in se stesso essenzialmente divina essenzialmente divina però anche è anche umana perché Gesù si è fatto uomo quindi noi che siamo accolti nella chiesa possiamo purtroppo speriamo che non succeda per noi ma che la miseria umana la tentazione possa sporcare anche la chiesa anche se è doloroso però è giusto onesto dire nella chiesa Gesù ha voluto che entrassero tutti tutti i pesci ti ricordi? Gesù ha detto il regno di Dio e la chiesa è per il regno di Dio è come una rete che piglia tutti i pesci però poi solo alla fine si fa la cernita dei pesci buoni e dei pesci cattivi quindi io vi direi non pensate che ci sia stato un periodo in cui fin dall'inizio con Giuda non ci sia stato scandalo perché chi è stato presente contemporaneo di Gesù avrebbe potuto dire a Gesù risorto ti ha tradito un tuo amico ti ha rinnegato colui a cui hai dato le chiavi del regno ora questo non è gli scandali danno fastidio a tutti e ci danno veramente ci fanno spezzano il cuore però secondo me se noi reagiamo allo scandalo anche perché Gesù ha detto nel mondo è necessario che ci sia necessario non significa che ci devono essere è inevitabile che ci siano gli scandali però noi dobbiamo avere il coraggio di dire che la chiesa è un popolo che cerca la verità e che nella chiesa ci sono invece anche cose molto buone perché nella chiesa non ci sono solo scandali nella chiesa ci sono anche situazioni dove si può vivere veramente un amore speciale cioè il fatto che noi siamo uomini e che dobbiamo affrontare l'opinione pubblica fa parte dell'esercizio del Vangelo io lo capisco anche i ragazzi per esempio se noi noi adulti ci impegnassimo a vivere il cristianesimo in maniera santa veramente che i nostri nipoti i nostri figli i nostri nipoti hanno da noi un esempio di gente innamorata di Gesù non è ora ma può darsi che tra 10 anni tra 15 anni gli resta in testa perché dico io ho sentito la testimonianza di un'attrice Claudia Colle che diceva che quando lei faceva la porno star a un certo punto le venne in mente come pregava a sua nonna l'ho sentita io eravamo in chiesa e lei ha detto io perché le hanno fatto questa domanda come ha fatto lei da attrice di un certo tipo poi a trovare la fede lei disse io quando poi capii che ero in crisi perché quel tipo di vita non mi dava gioia mi venne in mente mia nonna come pregava mia nonna e mi faceva pregare mia nonna allora ho ripreso da quel filo ho ripreso da quel filo ho ripreso la mia fede e a poco a poco l'ho alimentata ora io ti direi se noi se noi per esempio ci mettiamo la nostra parte mettiamo l'acqua nelle giare e diciamo signore io faccio la mia parte ma io non mi voglio tirare indiesi rispetto alla mia parte dobbiamo avere zelo perché se ognuno di noi dice ma io come faccio ma io come faccio io non ognuno di noi se non può parlare può pregare se non può pregare sempre può offrire sacrifici anche il solo desiderare della conversione degli altri e fare di tutto per poter aiutare gli altri a trovare Gesù anche dare la vita le proprie malattie le proprie sofferenze tutto evangelizza Santa Teresina evangelizzò dal suo letto lei era ammalata di tubercolosi non poteva manco uscendere dal letto però è la patrona delle missioni perché desiderava ardentemente portare il Vangelo se voi vedete un nostro conterraneo padre Gabriele Allegra voi non lo conoscete è beato ma lui partì che aveva 30 e rotti anni attorno a 30 anni e partì per la Cina partì per la Cina imparò il cinese e tradusse tutta la Bibbia in cinese che ancora è molto attuale la sua traduzione chi glielo faceva fare dalla Sicilia da San Giovanni la punta andare là sì ma ha tradotto noi quando noi abbiamo chiesto a Quen Chi una ragazza cinese se conosceva questa traduzione mi ha detto da noi anche se non siamo cristiani quando si parla di padre Gabriele Allegra si parla di un benefattore della Cina perché ha fatto per la Cina quanto non hanno fatto tante altre persone ora dico ed è un santo ognuno di noi secondo me deve chiedersi quando diciamo il Padre Nostro sia fatta la tua volontà Signore cosa vuoi che io faccia io sono convintissimo che se noi ci spogliamo dei nostri interessi egoistici e ognuno di noi mette il Signore al primo posto perché altrimenti non si può parlare di Signore ecco noi possiamo definire Gesù il Signore perché Lui comanda nella nostra vita altrimenti non è Signore questo ve lo ricordo non si può dire Gesù è il Signore come se comandassi io altrimenti non sono non è Lui il Signore quando io dico Gesù è il Signore significa Lui è il mio nell'amore padrone vivo per Lui vi sto dicendo mi prendo io la responsabilità di quello che vi sto dicendo chi vive veramente per Gesù riceve dalla provvidenza molto più di quanto pensa perché il Signore quando una persona consegna la vita a Gesù e fa il suo lavoro per il Signore non per i soldi il Signore sapete poi apre le sue porte perché ai suoi amici dice il Salmo 125 vi ricordate questo Salmo cosa dice se il Signore non costruisce la casa in vano si affaticano i costruttori in vano vi alzate di buon mattino e andate tardi a riposare perché il Signore i suoi doni li regala ai suoi amici anche se dormono ecco è importante secondo me coltivare il cristianesimo in una maniera più forte autentica come per dire le cose si fanno bene ecco io penso che dobbiamo abituarci a fare bene le cose a cominciare dalle cose che non passano perché se noi ci buttiamo sulle cose che passano poi alla fine resteremo un po' con le mani vuote ma c'è qualche cosa che non passa la nostra anima non passa le cose di Dio non passano il nostro corpo poi alla fine ci sarà dato un corpo risorto vabbè ma questo corpo non è destinato questo corpo nostro questo qua è un corpo materiale che noi lo perdiamo poi ci sarà dato alla fine un corpo glorificato ecco aspetto la resurrezione dei morti diciamo noi giustamente prego Gioia volevo dire che forse possiamo intitulare un po' a non dire che la chiesa pensando che la chiesa sia un sacerdote che la chiesa siamo noi perché non sono soltanto i sacerdote che danno scandalo eventualmente anche noi possiamo andare a scandalo perché quando qualcuno dice di noi cristiani che ci comportavano un certo modo dice ma che cristiani sono? dicono di essere cristiani in effetti in effetti questo errore di prospettiva c'è se tu chiedi se tu chiedi alle persone che cosa la chiesa ti dà il papa e i preti in effetti la chiesa non sono i papa e i preti che l'ho visto quello tutto bianco dentro che è successo non lo so scandale però che nel 1100 qua vicino a Potenzè i quadrocenti le croviate hanno scritto in latino la salva e i regini non l'hanno menzionato lo so ti menzionano gli scandali però lo fa si che allora guardate ci dobbiamo abituare a considerare che viviamo in una società scusate la società in cui viviamo è una società che se noi facciamo del bene non lo dice ma se succede ecco però però io vi direi sì però io vi direi questo non lo possiamo evitare perché anche ai tempi di Gesù era così anche ai tempi di San Piesio era così anche ai tempi dei primi cristiani era così non pensate che oggi ci sia ci sia qualche cosa perché ci sono anche degli interessi economici contro la Chiesa contro eh ma i ragazzi avvengati ci sono comodo anche se però sì io vi direi anche se i ragazzi assorbono queste cose ma la potenza dello spirito secondo me noi ci dobbiamo credere alla potenza dello spirito perché io ti direi questo loro fanno un lavoro umano per andare contro il Signore ma noi non possiamo opporre altro che la carità io ti direi questo qua noi abbiamo le armi della carità puoi dire quello che vuole anzi io direi noi le armi della verità e della carità queste qua le due armi della verità e della carità noi non possiamo non possiamo tacere la verità non possiamo non vivere la carità allora io vi direi siamo in un clima di questo genere però la forza della verità è una forza superiore a tutte le altre forze umane io penso che se noi non non ci scoraggiamo secondo me anche se non possiamo fare polemiche perché noi non dobbiamo fare polemiche però noi possiamo credere molto nello spirito santo che lo spirito santo tocca i cuori perché io ho visto una cosa nella mia vita almeno personale per anni ho visto persone lontane dalla chiesa poi è arrivato un momento e ho desiderato che queste persone potessero rivedere la loro vita poi c'è stata sempre un'occasione o una malattia o un incidente o un problema in cui ho avuto la possibilità di parlare di Gesù perché sai una persona lo deve coltivare dentro il bene degli altri lo dobbiamo maturare dentro di noi nel sacrificio nel portare la croce nell'adorare Gesù poi arriverà il momento in cui il Signore ci dà la possibilità anche di poter dire una parola che magari dà una luce a una persona in ogni caso vivere il cristianesimo oggi non è un fatto alla moda è un fatto anche possiamo dire controcorrente come abbiamo detto però è un ruolo positivo è un ruolo positivo in cui possiamo dire e questo è un insegnamento anche per chi nella Chiesa è abituato a vedere la Chiesa come un benessere perché fanno scandalo hanno visto la Chiesa come un luogo dove sono fatti i loro comodi allora che ci sia questo crollo forse è purificante per noi perché tanta gente sai tanta gente che è abituata a vedere la vita della Chiesa come un tornaconto personale come un luogo dove io faccio i cavoli miei in questa maniera magari può essere diciamo messa da parte io penso che il Signore ci ha dato questo Papa non perché gli altri Papi non erano all'altezza ma perché i tempi sono talmente cambiati che secondo me lo Spirito Santo ci ha fatto capire con questo Papa dovete cambiare io vi porto per la prima volta in duemila anni un pastore sudamericano perché quel tipo di cristianesimo che lui vive possa essere proposto a tutti come Chiesa universale e lo Spirito Santo non è acqua fresca che dice fratello Vito è vero come ti chiami Giuseppe ah Peppino io sono come Dino noi dobbiamo portare Cristo vivo per le strade nei posti di lavoro dove si gioca a pallone noi dobbiamo testimoniare veramente che Gesù è vivo e che Gesù muoce perché lo vedono in croce e dice noi dobbiamo portare Cristo risuono dobbiamo portare sempre la parte sì sì la dobbiamo vivere per testimoniare con il nostro sorriso con il nostro sguardo verso l'altro fratello se noi non portiamo questo allora dice ma il Signore è come si indice che la gente non lo sa che è come si indice i peccati che abbiamo con noi allora noi dobbiamo portare quel Cristo vivo sì sì e io penso che se iniziamo qualche cosa si può arrivare nel futuro ai giovani quando si sposeranno di formare delle famiglie cristiane dove adesso vi do un'indicazione che sembra sembrerà un po' particolare ma in effetti anche diciamo persone molto competenti nel campo anche della santità o della teologia mi hanno detto dovete pensare che quando una famiglia è cristiana il cenare insieme per esempio è come un atto sacro il cenare tutti insieme in qualche maniera è un modo per vivere la cena del Signore cioè dare un significato sacrale anche alla cena oppure per esempio considerare per esempio nella casa la camera da letto dei genitori come un luogo sacro perché il Signore vive in casa e i ragazzi si devono abituare per esempio dico adesso scusate se mi spingo oltre sarebbe bellissimo che in casa ci si desse la benedizione l'uno con l'altro perché voi dovete pensare che quando noi dicevamo ai nostri genitori o ai nostri nonni sa benedica cioè di fatto era vos sia mi benedica cioè vostra signoria sarebbe già tutto in italiano vostra signoria mi benedica e se vi ricordate loro ci benedicevano non rifiutavano mai benedetto ora il fatto per esempio di benedire gli altri in famiglia in una famiglia cristiana di benedire i figli quando escono di benedirsi marito e moglie chiedere la benedizione degli altri pare una cosa da niente però sai incide poi nella psiche o come diceva il Papa quando succede una cosa non andare mai a letto senza chiedersi scusa ora voi vedete di queste cose sembrano cose da niente però di fatto incidono nella vita una cosa che nella famiglia si è così sballate una cosa che si è uniti attorno a Gesù guardate sono cose importanti io penso che se noi non ci scoraggiamo noi possiamo essere forse la generazione che dà una spinta alle prossime generazioni un signore magari magari noi magari ce ne andremo da questo mondo prima che vediamo i frutti però forse le preghiere che facciamo oggi i sacrifici che facciamo perché le prossime generazioni scoprono la vera realtà della verità può darsi che saremo in cielo e vedremo dal cielo i frutti della nostra preghiera così anche i martiri sono stati a questi livelli siamo quindi io vi esorterei a impegnarci tutti tanto guardate ormai sono tanti anni che ci conosciamo con voi anche se c'è una distanza grande ci saranno quanto duemila chilometri però vi vedete quando noi ci rincontriamo ogni anno è come se fosse passato un giorno perché c'è un legame effettivamente di fede di amicizia che può però bisogna coltivarlo tutti i giorni dell'anno ecco noi siamo impegnati tutti i giorni perché siamo una comunità che si dedica al Signore perché in effetti la nostra vita anche se oggi come oggi non ci sono molte vocazioni però è una vita dico perché magari la vivo io cioè il fatto di pensare solo a Gesù e di vivere dalla mattina alla sera o parlando con Gesù o parlando di Gesù semplifica molto la vita se uno ha questa vocazione ma la maggior parte delle persone non hanno la nostra vocazione perché per noi è più semplice perché noi lunedì torniamo ma torniamo presto perché abbiamo impegni per Gesù cioè il Signore ci chiede di dedicare tutta la nostra giornata al Signore però e perché ce lo chiede a noi per favorire la vostra vita perché giusi sono altri laici con i quali noi possiamo dialogare esortare insegnare qualche cosa ora dico se voi fate un lavoro qua e noi facciamo un lavoro là è sempre la stessa vigna cioè dobbiamo rimanere uniti a Cristo per gli interessi di Gesù e dell'umanità certo alla fine della vita quello che conto è sui frutti della carità e basta le altre cose va niente che dici d'amore sì mettiamo tanti frutti tanti frutti facciamo sì facciamo un canto per chiedere al Signore aiuto c'è un canto che parla della perla preziosa il regno di Dio e la perla preziosa se lo facciamo insieme possiamo come off come off forse bisogna quella centrale Michele la spegni quella centrale così si vede meglio se seguite le parole vi accorgerete che è una bella preghiera in cui si utilizzano parafrasi del Vangelo cioè delle frasi del Vangelo per poter anche parlare col Signore grazie a tutti tu sei la perla preziosa che alla mia vita dà valore per te lascio ogni cosa e seguo te oh mio Signore voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò tu sei il tesoro più grande la vera fonte dell'amore per te e ti proclamo mio Signore voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti maestro il tuo volere con gioia farò voglio seguirti con gioia Signore perché hai sedotto il mio cuore voglio vederti maestro maestro il tuo volere con gioia farò tu sei la bella preziosa a Grazie a tutti.